Il treno regionale 6130 di Tremitalia, proveniente da Tremiso Centrale e diretto a Vicenza, delle ore 10.07 e in arrivo a binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 6195 di Tremitalia, proveniente da Vicenza e diretto a Tremiso Centrale, delle ore 9.55 e in arrivo a binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.